Salve a tutti ragazzi, sono OnlyOne e benvenuti al terzo episodio, la terza puntata del gameplay di Minecraft. L'altra volta eravamo andati ad esplorare la grotta che c'era qui vicino il rifugio che abbiamo fatto, l'altra grotta ovviamente è il rifugio, in cui siamo in questo momento, e abbiamo trovato del ferro, molto carbone, abbiamo ucciso dei mob e abbiamo recuperato delle risorse importanti. Oggi, invece, al contrario di quanto avevo detto l'altra volta che mi volevo bardare, cioè fare comunque un'armatura per poter essere più protetto ed affrontare la sezione della caverna dove era pieno di mob, invece oggi voglio andare a modificare il rifugio e non renderlo una semplice grotta così che l'abbiamo fatto all'inizio come cosa semplice per ripararsi dai mob la notte, voglio andare a fare una specie di casetta di palafitta per rendere più carino il posto dove da andare a rifugiarsi e renderlo più carino possibile. Ora è notte ragazzi, quindi detto questo io do uno sguardo intorno ed essendo che il bioma dove siamo capitati tra la savana e la pianura io voglio fare una specie di palafitta come rifugio, quindi non una semplice casetta sul terreno ma una specie di palafitta che entra dentro la montagna, quindi una specie di palafitta che entra dentro la montagna. Questa è stata la mia idea, lì intanto c'erano degli scheletri, è stata la mia idea e quindi andrò a costruire questa cosa di giorno. Per adesso faccio uno stacco, rientro dentro la rifugio, farò passare la notte, andrò a recuperare il legno necessario per la costruzione di questa palafitta accostata, addossata a questa montagna e ci rivediamo fra poco. E intanto lascio che si cuoce il ferro. A fra poco ragazzi. Eccoci di nuovo qui ragazzi, allora si è fatto giorno, è passato la notte, è fatto giorno, intanto ho fatto cuocere del ferro che si sta cuocendo, lo lasciamo nella fornace e andiamo a raccogliere tutta la legna necessaria. Voglio farlo, un misto tra questo legno e un altro legno che è quello di quercia che si trova lì, che è costituito da quegli alberi lì. Lì intanto raggiungo un creeper. Allora ragazzi, io raccolgo questo legno con la mia ascia, raccoglierò quell'altro legno e mi procurerò anche del cibo e se incontro delle pecore, come ho visto nella prima puntata, andrò a raccogliere anche dei blocchi di lana per farmi un letto in modo da poter trascorrere anche la notte immediatamente andando a dormire. E ovviamente anche salvando il punto di spawn. Allora ragazzi, faccio quest'altra interruzione, andrò a raccogliere tutto il legno perché mi pare abbastanza noioso come procedimento per farvelo vedere e ci rivediamo fra poco. Allora ragazzi, faccio quest'altra interruzione, e faccio quest'altra interruzione, Allora ragazzi, faccio quest'altra interruzione, e 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 faccio quest'altra interruzione, allora eccoci di nuovo qui ragazzi ho raccolto tutto il legno sia di quercia che da caccia che è l'albero che si trova nella savana, nel bioma della savana ho raccolto tutto quanto quello che era necessario ovviamente avete visto dalle immagini parte dell'operazione della raccolta del legno e ho ripiantato anche con dei sapling con degli arboscelli ho ripiantato gli alberi dove li avevo tagliati per evitare la deforestizzazione quindi per evitare che disbosco tutto quanto e non ci sono più alberi intanto si sta facendo notte io rientro in caverna e nel frattempo avete visto anche delle immagini che sono andato a raccogliere esattamente il letto innanzitutto qui direi di allargare di due per fare entrare il letto e andiamo a craftarci cioè andiamo a fabbricarci il letto il letto servono tre pezzi di lana che per fortuna ho grazie alle pecore di qualsiasi colorazione e tre pezzi di legno pregiato in questa maniera andiamo a crearci il letto e lo andiamo a piazzare qua perfetto il letto ci permetterà di passare la notte velocemente e di salvare il punto di spawn perfetto ragazzi allora facciamo una cosa io vado a dormire e ci rivediamo il giorno prossimo quindi di giorno quando la notte sarà passata in modo che così potrò cominciare a costruire la palafitta che mi ero predisposto perfetto ragazzi allora eccoci tornati ho dormito perfetto è di nuovo giorno e ora procederemo alla costruzione allora innanzitutto mi andrei a creare subito con questo legno una cassa che la cassa mi permette di depositare più oggetti vedete che l'inventario è quasi pieno quindi creerò una cassa per depositare degli oggetti che rimarranno al loro interno quindi andrò a creare una cassa che si crafta in quella ricetta che appena vi ho fatto vedere con qualsiasi legno e la andiamo a piazzare qui vicino alla fornace bene andiamo a depositare gli oggetti inutili come il granito il petirisco che ne ho tanto gli arboscelli cadendo gli alberi cadendo le foglie non solo cadono gli arboscelli per poter ripiantare gli alberi ma cadono anche delle mele che possono fungere anche esse da cibo ma non danno molta molta sazietà e andiamo a depositare tutta roba inutile come la carne marcia che sono e le stringhe che sono le frecce che sono appunto i drop dei mob e andiamo a depositare ovviamente tutta roba inutile questi due crafting table che ho fatto erroneamente tutto il resto me lo lascio ho anche un ascio di pietra in più per raccogliere ovviamente che ho utilizzato e ho craftato per raccogliere tutti gli alberi perfetto ragazzi adesso andrò a raffinare il legno io depositerei anche la fornace anzi la fornace l'avevo fatta me la deposito qui metto del carbone giusto così per andare a cuocermi questa carne di pecora cruda ok mentre qui ho finito di raffinare tutto il ferro grezzo e mi ha dato dei lingotti di ferro lo lascio qua dentro perfetto ragazzi adesso mi crafto all'incirca del legno di acacia ovviamente l'assi di legno di acacia dal legno di acacia grezzo raffinato ovviamente lavorato e anche qui mi andrò a fare degli assi andrò a prendere due belli stack di assi di legno lavorato di quercia perché mi serviranno ok ragazzi allora ragazzi cominciamo la costruzione del della nostra casetta allora innanzitutto io direi di farmi una pala per eliminare questa terra e la pala la facciamo in questa maniera con questa ricetta di crafting quindi questa maniera ce la facciamo di pietra in modo che sia più resistente possibile e andiamo a togliere il questa terra ok ragazzi quindi la voglio fare incavata come abbiamo detto non solo a ridosso ma anche che entra dentro la montagna questa questo rifugio che sarà a forma di valafitta quindi comincerò a scavare e la farò larga sette blocchi quindi comincerò a scavare o dal centro qui della caverna sette blocchi quindi comincerò a scavare in questa maniera e la farò alta ovviamente uno due tre quattro blocchi quindi comincerò a scavare qui qui utilizzerò il piccone perché stiamo nella pietra allora inizio lo scavo faccio un altro stacco e quando ho finito di scavare tutto vi farò vedere quanto ho scavato e tutta la proporzione che ho fatto e tutto l'incavo e lo scavo che ho fatto qui a ridosso della montagna ci vediamo fra poco allora eccoci tornati qua ragazzi ho completato tutto lo scavo ho fatto uno scavo di larghezza nove blocchi profondo nove blocchi e alto quattro blocchi bene allora adesso cominceremo a costruire intanto se l'ha fatto notte sono riandato a dormire e e ho rifatto rifare di nuovo giorno i mob non mi sono venuti a trovare perfetto allora adesso vi faccio vedere lo stile di come vorrei fare questa questa ovviamente questa casetta innanzitutto io qui andrei a sostituire con il pavimento del della casetta andrei a sostituire con delle assi di legno lavorato ok quindi andrei a scavare qui e andrei a posizionare questi qua queste assi di legno così in questa maniera ok e lo vorrei fare a scacchiera quindi esattamente prendendo e andando ad alternare gli assi di legno lavorato di di scusate di guercia con quelli di di acacia in questa esatta maniera ok quindi questo qui questo lavoro qui lo farò per tutto quanto il pavimento che arriverà fino all'esterno fino a qui e lo farò per tutto questo pavimento quindi adesso riscaverò qua tutto quanto anche qui e oh qui ho trovato anche del carbone riscaverò tutto quanto e andrò a sostituire sempre facendo questa alternanza ok ragazzi allora faccio uno stacco e quando ho finito di fare questo vi faccio vedere come è venuto perfetto ragazzi rieccoci di nuovo qua adesso ho ricoperto come avevo detto tutto il pavimento di questo motivo a scacchiare di cui viene anche abbastanza bello e carino si si mescola bene con gli altri colori intorno sta di nuovo facendo notte arrivato a dormire e proseguirò per il giorno dopo il resto della casa ovviamente di questa palafitta dovrò mettere ovviamente le pareti qui tutto intorno fino a su e anche il tetto e domani vi andrò a far vedere come voglio invece fare a tema le pareti e il tetto perfetto ragazzi andiamo a dormire ci vediamo fra poco all'indomani perfetto ragazzi eccoci di nuovo qui scusate tutte queste interruzioni ma voglio evitare di annoiarvi visto che deve passare il tempo anche se posso andare a dormire con della notte per fare di nuovo giorno e per lavorare in tranquillità senza che i mob ci attaccano e ovviamente fare in maniera molto più rapida e senza annoiarvi nella posizione dei blocchi tutto quanto la costruzione della palafitta allora il motivo con cui voglio fare il le pareti è questo essendo che qui c'è questo blocco facciamo questa maniera sempre alternando anche in verticale i blocchi di acacia con quelli di quercia ma in questo caso invece di mettere del legno raffinato di acacia voglio fare voglio intervallare il tutto con questo tipo di legno cioè con legno grezzo di con il legno grezzo di quercia quindi il motivo che farò sarà eccolo l'ho sbagliato di nuovo questo mettendo così i tronchi ok ragazzi anche qui farò la stessa identica cosa quindi intervallerò in questa maniera con il legno adesso ho da prendere togliamo quello di acacia è la miseria ecco qui quindi farò questa specie di decorazione qui ok e ovviamente qui sopra alternerò in questa identica maniera ok ragazzi allora faccio tutto questo per tutte le pareti fino a qui fino a qui e poi farò vedere perché voglio fare una specie di balconcino qui e ci rivediamo fra poco grazie a tutti Grazie a tutti